Mi chiamo Steven Hutchinson, ho 38 anni e vivo a Napoli, nel quartiere Romero. Sono un capotreno, quindi viaggio sui treni in giro per l'Italia. Sono nato negli Stati Uniti da un padre americano e madre napoletana. A Napoli c'è molto tradizionalismo e in realtà un matrimonio del genere non si è mai visto e sarà una cosa nuova. I miei amici mi guarderanno e diranno, voglio me stai buona, ma ti embriagate stamattina. Ho una passione per la cucina, mi piace cucinare. Uno dei miei lavori è stato proprio fare lo chef in un casino negli Stati Uniti. Nella cucina sono italiano, perché gli americani non sanno cucinare. Il programma si chiama Matrimonio a Prima Vista, quindi se decidi di partecipare sai che ti sposi e sai che vuoi costruire qualcosa di serio insieme a questa persona. Stavaglione ha da essere bella, simpatica, semplice e non ha da rubrescata.